Buongiorno a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la video recensione del Galaxy S4 Mini Duos. Innanzitutto ringrazio gli stocchisti per averci fornito lo smartphone che abbiamo potuto provare per molto tempo perché ci interessava particolarmente una soluzione dual sim ispirata al top di gamma di quest'anno di Samsung. Allora come potete vedere dalla confezione essendo questo un Garanzia Italia smartphone Samsung offre 24 mesi di assicurazione sui danni accidentali del prodotto. Andiamo ad aprire la confezione, ho già tolto lo smartphone che tra un po' vedremo. Allora confezione interamente realizzata da materiali riciclati ovvero carta e cartone. Lo sforzo che apprezzo particolarmente in Samsung che potrebbe benissimo utilizzare carta normale ma è già un passo in avanti verso l'ottimizzazione dei materiali. Caricabatterie piuttosto classico con clavetto USB micro USB condiviso e cuffie in-ear con i vari gommini. Cuffie classiche di Samsung ormai troviamo sempre queste cuffie in qualsiasi device dell'azienda sud coreana. Cuffie di buona qualità come ben sapete io purtroppo non sopporto molto le in-ear quindi dopo 5 minuti di utilizzo le devo togliere. Allora questo è l'S DUOS come potete vedere il design è quello dell'S4 normale in 4.3 pollici di display. Il design si sposa benissimo con le dimensioni ridotte di questo smartphone anzi il design dell'S4 normale viene secondo me esaltato da queste dimensioni. Si trova veramente bene, con un dito riusciamo ad andare dalla parte inferiore alla parte superiore, è veramente stretto e riusciamo ad avere il controllo e la maneggevolezza per usarlo solo con una mano e poi i 107 grammi risultano essere veramente pochi, possiamo metterli in tasca anche in quelle più strette senza nessun problema. Lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, lato destro abbiamo il tasto di blocco, sblocco e spegnimento del device, parte superiore abbiamo il microfono per la soppressione dei rumori, il jack da 3,5 mentre la parte inferiore abbiamo il microfono e il connettore micro usb. Vi apro un attimo la cover, cover realizzata in policarbonato come per praticamente tutta la serie Galaxy S4, tutta la famiglia. Allora batteria da 1900 mAh, ci tornerò dopo. Allora vi faccio vedere come si compone la struttura. Micro SD fino 64 GB, sim 1, sim 2. Sim classiche, non mini sim, ma micro sim. Le sim vengono gestite in contemporanea. grande vantaggio di questo smartphone appunto è quello di poter gestire per esempio due operatori differenti in contemporanea in modo da poter chiamare risparmiando qualcosa oppure come ho fatto io ho inserito quella di lavoro e quella personale in modo da poter avere una gestione ottimizzata dei due numeri senza portarsi soprattutto appresso due smartphone distinti. Andiamo ad accendere il Galaxy S4 mini. Vi dico già subito che abbiamo non un hardware identico come il design ma proporzionato alla gamma. Questo infatti Samsung lo piazza come un smartphone di fascia medio, medio alta inizialmente visto che il prezzo all'uscita era di 399, adesso lo troviamo anche a 320-330 euro. Allora, fin da subito differenze con l'S4 normale. Non abbiamo la sensibilità del touch a distanza. dovremo per forza toccare lo schermo per interagire col device. Quindi ci sono alcune limitazioni. Un'altra caratteristica, mostro un secondo, l'interfaccia della fotocamera. Partirei subito da questa, questa classicissima, se avete avuto un Samsung ci ritroverete subito. Menù in alto a sinistra con le varie opzioni. Abbiamo la possibilità di autocondividere, di impostare un timer, di avere le diverse modalità tra cui vediamo scatto multiplo, il volto migliore, l'audio scatto che si presenta anche in questo S4 Mini, la panoramica classica, la sportiva, la notte, l'automatica, bellezza volto, scatto migliore, scatto multiplo. Manca con la modalità, adesso purtroppo non mi sfugge il nome, soprattutto nelle azioni sportive o per esempio nelle automobilistiche dove viene fatto un multiplo scatto e poi unito in un unico, in modo da avere un scatto il movimento del soggetto. Purtroppo in questo device ci sono meno modalità. foto, sensore da 8 megapixel, come potete vedere possiamo personalizzare direttamente e mettere qualche filtro da 8 megapixel, metto un attimo il Nexus, piuttosto buone anche se i colori, allora è molto luminosa la fotocamera ma i colori sono leggermente spenti. un po' immagine, potete vedere il colore è un po' spento, come potete vedere non abbiamo neanche la transizione tramite il sensore prerogativa che rimane sull'S4 standard, quindi qualche differenza dal punto di vista funzionale c'è, è probabilmente evoluta visto che la transizione non avrebbe non avrebbe forse inficiato su parti hardware. Abbiamo però anche qualche feature inclusa che troviamo anche sull'S4 standard come Group Play, l'applicazione che ci consente, adesso non ho altri dispositivi Samsung Galaxy a disposizione, ci consente di condividere contenuti multimediali semplicemente appunto aprendo Google Play e individuando nel raggio di azione del telefono un device compatibile. Troviamo Chatone, praticamente il Whatsapp di Samsung, ormai conosciamo benissimo le Samsung Apps, Samsung Hub, tutti per contenuti multimediali. Abbiamo inoltre la presenza di due browser web, quello denominato Internet che è quello che installa Samsung e Chrome, il classico Chrome. Tra i due non c'è praticamente differenza. Andrei su Nexus Lab, vi dico subito che ho qualche problema alla DSL, quindi se trovate lentezza non è tanto dovuto al telefono quanto la velocità della connessione purtroppo. Lavoro in corso, ci dovete scusare un attimo. Allora, non attivo, impostiamo, mi sono dimenticato di dirvi, nel mentre che vado sul menu, abbiamo anche la stessa disposizione dei tasti, abbiamo i due soft touch con quello delle opzioni e quello indietro e il tasto home fisico classico, molto comodo rispetto per esempio a quello degli LG ha la grandezza giusta e il feedback giusto, mentre in altri telefoni abbiamo purtroppo qualche problema. Andiamo sulla visualizzazione desktop, navigazione perfetta, l'hardware che non ha le medesime prestazioni dell'S4 standard però si dimostra comunque sufficiente per fare qualsiasi cosa, vi abbasso leggermente la luminosità che è automatica, però in base alla nostra impostazione lui sarà più su una soglia luminosa o più su una soglia scura a seconda della impostazione che noi metteremo. Come potete vedere ha già allineato il testo, ha già caricato la pagina, non abbiamo grandi puntamenti, però qualche volta può capitare, in fondo il processore è uno stamp dragon 400 dual core da 1.7 gigahertz, mentre la ram è da 1.5 gigabyte, quindi sia il processore, soprattutto il processore, che la ram hanno una diminuzione rispetto all'S4 standard. display invece, display che si conferma ottimo, praticamente non ha differenza a livello qualitativo con l'S4 classico, poiché la risoluzione è inferiore, 960x540 pixel, ma in 4.3 pollici praticamente la densità si mantiene costante. Altra cosa che volevo farvi vedere, tastiera, tastiera classica Samsung, essendo un device da 4.3 pollici i tasti numerici vengono messi in seconda funzione, non c'è l'ultima riga, cosa giustissima, tastiera perfetta, praticamente paragonabile a quella di Android stock, non presenta grandi personalizzazioni, cosa che sinceramente io apprezzo. Torniamo indietro, devo farvi vedere il dialer del telefono, ormai l'interfaccia Samsung la sappiamo meno a dito, come potete vedere abbiamo le liste, i gruppi, il telefono e la ricerca veloce, tipo casa. Lui troverà in automatico cliccando anche solo due dita. Questa è l'intera rubrica che si può scorrere in due modi. Tendina, tendina che sembra che le sudcoreane amino le tendine, sempre molto ricca. Troviamo alcune opzioni rapide come la luminosità del display, come vi ho fatto vedere prima, le classiche notifiche e tutte queste scorciatoie che possono essere personalizzate. Abbiamo lo standby intelligente, standby intelligente presente su tutta la famiglia Galaxy S4, che praticamente quando noi vediamo, quando il telefono percepisce che lo stiamo guardando, il telefono non andrà in pausa. Appena guarderemo altrove, per esempio il video andrà automaticamente in pausa. Non abbiamo la possibilità di scorrere il testo con lo sguardo, cosa esclusiva del Galaxy S4 standard. Un'altra differenza. Il secondo menu ci fa vedere tutte le scorciatoie che possono essere personalizzate in questo modo. Anche la tendina, anche in regola luminosità. Andiamo nelle opzioni, vi faccio vedere l'info sul dispositivo. Abbiamo già Android 4.2.2, esce di fabbrica con questo, non abbiamo dovuto aggiornare niente, a testimonianza che è un device piuttosto nuovo. Probabilmente Samsung supporterà, ha già detto che supporterà attivamente questo device. ci mancherebbe appena uscito, non si sa se verrà aggiornato Android 4.3 o si aspetterà Android KitKat. Probabilmente farà entrambi i passaggi, dato che l'update a KitKat e la 4.3 sono piuttosto piccoli, non dovrebbe comportare chissà quale lavoro. Abbiamo le classiche schermate del menu molto ricche di Samsung, divise sempre in quattro sottomenu. Abbiamo la possibilità di condividere lo schermo con un altro dispositivo compatibile. abbiamo le impostazioni per la chiamata, risparmio energetico, cosa che in effetti fa risparmiare effettivamente qualcosa e ci fa guadagnare un'oretta, un'oretta e mezza, la gestione degli account e la gestione della memoria e del dispositivo. tornerei a parlare della batteria come vi dicevo all'inizio, batteria che purtroppo è un po' vittima dell'utilizzo della doppia sim. Con singola sim arriviamo tranquillamente con 3G attivato e uso abbastanza intenso, diciamo un 30 minuti di chiamata al giorno, un'ora di internet, mezz'ora di giochi, messaggi whatsapp a go go e hangout, eccetera eccetera, dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera si arriva tranquilli. Con la doppia sim invece no, con la doppia sim è quasi impossibile, ho provato anche ad attivare il risparmio energia che in questo momento è attivato, ma purtroppo non ho guadagnato granché e alle 5 del pomeriggio si è spento. È un limite sempre in posto dei dual sim, soprattutto quelli che funzionano in contemporanea, però è un limite che ci sta, sinceramente forse è meglio sacrificare un po' la batteria, ricaricarla ogni tanto ma portarsi un dispositivo almeno dietro. Vi faccio vedere un video, un video in full HD, il solito che vi mostro per farvi vedere sia la qualità dello schermo sia l'audio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi faccio vedere un video che si può vedere, vediamo la domanda che ci consente di avere due schermi in contemporanea e poter guardare il video anche facendo altro. Cosa che testimonia comunque l'ottimizzazione del sistema operativo che appunto è molto fluido e anche un video in full HD piuttosto pesante riesce ad amministrarlo molto bene. chiudiamo il video come potete vedere almeno dal mio punto di vista il display è veramente ottimo mantiene le qualità dell'AMOLED AMOLED che a me piacciono sinceramente ha qualità diverse rispetto ad un IPS colori molto molto più vivi non naturali ma molto accesi e neri veramente eccezionali mentre l'audio, l'audio è buono abbastanza fedele, un po' basso l'altoparlante di sistema in viva voce purtroppo è insufficiente soprattutto in auto volevo farvi vedere come ultime cose l'interfaccia e la gestione delle home praticamente facendo un pitch in potremmo vedere le diverse home aggiungerne fino a un massimo di 7 e scegliere quale fare home page inoltre abbiamo la possibilità di impostare lo sfondo di creare una cartella e applicazioni widget andare direttamente nel menu abbiamo la divisione per widget la divisione per applicazioni e le app appena scaricate allora riassumendo questo Galaxy S4 Mini Duos è un ottimo device forse inizialmente un po' caro 400 euro erano un po' troppi per l'hardware offerto ma è una soluzione perfetta per quelli che vogliono avere un dual sim veloce, funzionale, bello, leggero è comodo da portarsi dietro l'unica cosa bisognerà mettere in conto soprattutto se avete una giornata lunga piena in cui il cellulare vi serve spesso di collegarlo un attimo in macchina o al computer o a una presa elettrica durante metà giornata perché la gestione dei due sim è abbastanza esosa per il resto consigliatissimo 300 euro è un prezzo abbastanza giusto lo si trova poco più poco male veramente forse il miglior dual sim sul mercato in questo momento speriamo solo che Samsung mantenga il supporto per il sistema operativo a lungo perché se lo merita un saluto da Alessandro per Nexus Love per il sistema operativo a lungo 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 per il sistema operativo a lungo